97, 98, 99 e 100 Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sotano ci abita qua! 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi! Oggi all'ordine del giorno l'approvazione di un palazzetto abusivo di rimpetta all'aeropoeta Oh no, la tua pappa! Oh no, la tua pappa! Oh no, la tua pappa!